Pista ciclabile, area 24, riva Ligure, prati inferiori, lato A, questo è il lato B. Canne tagliate, lasciate lì, hanno preso fuoco, sono molto pericolose, tutto un bosco di incuria, medie di vipere e topi. Tutto incompleto, abandone. Pista ciclabile, area 24, riva Ligure. Tutta questa zona è completamente abbandonata a se stessa. Sopra si è tutto bello. Questa è la retrospettiva della pista ciclabile. E qui dove ha preso fuoco. Grazie. 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 Grazie.